Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme questi bignè con crema e panna. In una pentola versiamo 280 ml di acqua, un pizzico di sale, metà cucchiaino di zucchero, 180 ml d'olio di semi, accendiamo il gas. Diamo una mescolata e portiamo a bollore. Non appena bolle versate in un solo colpo, 180 g di farina doppio zero. Mescolate, cuocete il composto, fino a quando non si formerà un'unica palla, quindi il composto si sarà staccato dalle pareti. E sul fondo della pentola dovete vedere una patina bianca. Ecco qui, il nostro composto è cotto, vedete come si è formata la patina. Adesso mettetelo in una ciotola e lasciatelo raffreddare per 5 minuti. I 5 minuti sono passati, quindi possiamo aggiungere le uova. Aggiungete un uovo alla volta. In totale sono 6 uova. Mi raccomando, non aggiungete l'uovo successivo se il precedente non è stato ben assorbito. Sbattete con uno sbattitore. Aggiungete il secondo uovo. Il terzo Il quarto Il quinto Ed ora il sesto ed ultimo uovo. Ecco qui, il nostro impasto è pronto. Come vedete deve avere la consistenza di una crema. Adesso rivestite una teglia con della carta forno e formate dei mucchietti. Io ho usato semplicemente due cucchiaini. Ecco qui, i nostri bignè sono formati e adesso subito in forno. Forno già caldo, per questi bignè uso la funzione multifunzione, quindi con la ventola attaccata, 30 minuti a 200 gradi. Mi raccomando, durante questi 30 minuti non aprite mai il forno. Quindi quando sono passati i 30 minuti, invece spegnete il forno, aprite lo sportello, lasciandolo a spiffero, quindi mettete un cucchiaio di legno e lasciate asciugare i vostri bignè per giusto 5 minuti. Ed eccoli qui, appena usciti dal forno. Guardate, sono perfetti. Cottura perfetta e asciugatura perfetta. E adesso possiamo riempirli. Quindi montiamo 200 ml di panna. Diamo anche una mescolata alla crema. Se volete fare la ricetta della mia crema pasticcera, vi lascio il link giù nell'info box. Apriamo i bignè. Guardate, sono vuoti, sono perfetti. E adesso riempiamoli. Quindi riempiteli prima con la crema. E poi fate un abbondante giro di panna montata. Mettete la calotta e i vostri bignè sono pronti. Ecco qui, guardate. Che spettacolo. Mi raccomando, se anche questa videoricetta ti è piaciuta, lascia un like. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. E condividimi sui saluti.